La buona notizia è che non si chiude, ma si riqualifica attraverso la riconversione. Stiamo parlando dello stabilimento della Unilever, situato nel nucleo industriale di Pozzilli, dove l'accordo sindacale raggiunto presuppone un percorso di sostegno per i lavoratori percorso che parte dalla cassa integrazione e intercetta una serie di aiuti che prospettano l'anticipo dal lavoro con accompagnamento verso i contratti di espansione e l'uscita con finalità pensionistiche. Attraverso tre tipi di ammortizzatori sociali, circa 65 dipendenti di Unilever andranno in cassa integrazione con integrazione salariale al 90% da parte di Unilever per poi essere riallocati in un periodo fra 18 e 24 mesi nella nuova società dopo la riconversione industriale. Poi avremo una trentina di persone che usufruiranno dell'isopensione, vale a dire un anticipo della pensione, della prestazione della pensione, di circa 7 anni, fino a 7 anni, pagata da Unilever. E poi avremo un contratto di espansione che riesce ad anticipare anche fino a 5 anni l'età pensionabile, sempre pagata da Unilever. La fabbria si fermerà attorno al 10 di dicembre. Abbiamo una linea ancora in produzione che fa lo svelto per supportare il mercato e abbiamo un'altra linea che va a singhiozzo ma ormai siamo agli sgoccioli finali. Lo smantellamento è già iniziato perché bisognerà riconvertirlo totalmente, anche con la modifica strutturale anche dello stabile, poiché gli impianti nuovi occuperanno anche due piani e saranno molto grandi. Gli step saranno costituiti anche dalla formazione che si darà un po' in carico alla regione, Molise, un po' in carico ad Unilever, per creare le nuove skill che occorreranno ai lavoratori perché comincerà un nuovo tipo di produzione, un nuovo percorso. Oggi non è una bella giornata per la storia di questo territorio e soprattutto del nucleo industriale di Pozzilli perché Unilever era comunque il fiore all'occhiello del nucleo industriale di Pozzilli. Speriamo che questa transizione ecologica dia soprattutto futuro alle famiglie che restano, a nuovi che arriveranno e all'indotto perché comunque le persone dell'indotto anche quelle sono tante. Sappiamo ancora ben poco, almeno la parte politica, io sono stata molto vicino ai lavoratori e le poche notizie che ho le ho avute da loro perché oggi di ufficiale ancora non abbiamo niente. Sicuramente confidiamo nel lavoro fatto da tutti i sindacati e quindi speriamo in un nuovo futuro per il nucleo industriale e soprattutto per le famiglie che ci lavorano.